eh però adesso è diventato buono eh adesso ciao ragazzi adesso andiamo a svegliare Leonardo che sta ancora dormendo venite con me buongiorno buongiorno io e ragazzi abbiamo deciso di venirti a svegliare stamattina buongiorno buongiorno io volevo raccontare che tu ieri sera hai messo un uovo nell'aceto è che c'è la cucina giù che puzza di aceto l'hai buttato? no come hai dormito? bene bene ma lo sai che ora sono? no le 10 e mezza hai dormito tanto sai? oh oh che cosa hai fatto? spiega ai ragazzi che cosa c'è in quel bicchiere? un uovo e dell'aceto? sì e che cosa dovrebbe succedere? l'hai messo ieri sera? bisogna tirarlo fuori e metterlo in una scodella d'acqua e chi lo tira fuori adesso? te cosa? non l'ho buttato a posto ai ragazzi e adesso cosa succede? prendi l'uomo io? sì cioè lo devo prendere con le mani? sì non lo devi forzare però se lo prendo con un cucchiaio? no 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 non aspetta però aspetta un attimo ma che fai? no 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 lo devi prendere oh mamma prendi l'uovo ho sicuro? io sento una roba sotto le mani le ho è l'uovo è molle sento una roba sì perché è molle è vero è molle è vero è molle è vero lo devo mettere nell'acqua? sì nell'acqua lo devi sciacquare una roba molliccia è vero che roba è? è la cacca di caldino come? è la cacca di caldino con la mano ci aspetta questo è quello che è successo io veramente guarda guardate e l'uovo che c'era dentro? sciacqua è la mia mano sciacquai ma dove l'hai vista sta roba qua? dov'è che l'hai vista? sul canale però questo uovo è diventato male si è diventato male perché si è rotto si è rotto? si è rotto? c'è il giallo beh ecco che carino il giallo fortissimo non l'ho mai visto il tuorlo meraviglioso meraviglioso però adesso è diventato buono adesso adesso ragazzi l'esperimento non è riuscito però il tuorlo almeno è diventato un po' duro che puzza vero? non fa non fatelo io raffreddore hai raffreddore non senti gli odori non sento gli odori ti garantisco che che puzza un brutto odore ok un pochino di nutella è vero Leo? Leo come ti piace il latte a te? eh ecco il gioccolato va vieni Leonardo vieni a fare colazione Leonardo Leonardo vieni a fare colazione Leonardo oh ce l'abbiamo fatta piano programmi per la giornata andare dai nanni anche se è mia cugina vorrei 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 fatti dare un bacio fatti dare un bacio fatti dare un bacio un bacio un bacio Un bacino, un bacino, un bacino Un bacino Andiamo a dare delle carote a piuma E... La salutiamo Pionetta Non voglio queste carote Non voglio queste carote Allora Mangia Mangia Fa piuma Piuma Mangia Mettigliele lì Attenzione Mettigliele lì Leo Se tu muovi troppo Mettigliele lì Appoggia Ok Buona giornata a tutti Da me Vedo più Grazie a tutti Ciao 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 Grazie a tutti.